Ciao ragazzi, ben ritrovati a una partita del Parma, che va a Cosenza, ce la farà finalmente tirare fuori i tre punti? Ma io chiedo scusa subito ai tifosi di Cosenza, se non avrà risultato, ma insomma Cosenza quel che è, nulla da togliere Cosenza, ma insomma, i valori i giocatori sono quelli che sono, c'è un Vazquez in più, io ce la metterò tutta, promesso. Noi dobbiamo cercare di fare una bella figura, dopo quello che abbiamo fatto con l'Inter, partiti, dobbiamo vedere un bel Parma, 30 minuti, farla girare, ragionare, siamo fuori casa, ma dobbiamo fare prevalere la nostra tecnica e il nostro Vazquez. Così. Va bene. Siamo inferiori, ma ce la giochiamo. Così. Tardi. Odoni. Così Bombergoghi. fermati, ragiona. Bravo. Bravo capitano. Eh che capitano. Eh che capitano. Eh che capitano. Dai. Eh ma vabbè, cosa fai? Che domani di centrocampo? Bravissimo te. Bello, bello, vai. Dai. Ma che cosa cerchiamo di fare? La schiena di là? Un pazzo. Allarga tutto di là. Ok. Grande Bombergori. Eh ragazzi. Già? La cussa è la reti. Ma dai. Su. Ancora. Guarda che me lo sono sfigati, eh. Bene. Ottimo. Triangolo velocissimo, bellissimo del Parma. Vazquez. Sul mudo. Niente. Ma devo fare un cazzo. Calma. Sto per fare un fallaccio terribile. Che poi lo paghi, eh. 30 minuti, ragazzi. Sono 30 minuti, eh. No. Non facciamo dei falli inutili. Grazie. È possibile. Oh. Buonissimo. Che c'è in porta? Che c'è buffo? Che c'è buffo? Non si lo venta. Si lo venta sì. Mamma mia. Non è che non dorma? Non si può che sia in partita stavolta. Cosa trova? Andee. Bella rubata. Ma il contropiede pazzesco. Vazquez. Vazquez. La gestisce Vazquez. Mudo. 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 E te. La metterà. Nessuno gli va a contrastare. Come mai? Vi siete tormentati? Chiamati un difensore. Vazquez. Tranquillo. Ragiona. Vazquez. Vazquez. Si porta in vantaggio il Palma. Finalmente si vede il Mudo. Guardate. Tranquillo. Su Palma è da campo. Non chiamavo il giocatore. Non riescono a chiamare la difesa. Il Mudo è in trenare. Tranquillo. Vazquez. Che gol. Dai, là. Siamo alla parte dell'elettro. L'ho fatto un posto. È sicuramente bruttissimo da vedere. Per i tibosi di cosenza. Dovrete reagire a questa bruttezza. Ma il Palma non ci sta. Mi raccomando, attenti in una sola cosa. Lo sapete. I filtrati. Per il resto, sapete già cosa dovete fare. Siete belli? Siete belli? Comunque. Bravo così a sgropare. Concupare il pallone. Andare in avanti così, con una tecnica. Un bel Palma. Un bel Palma! Niente. Tranquilli. Siete belli? Siete belli? Mi ricordo, con il Cosenza forse aveva già giocato in casa. 2-1. Quattro. 1-2-0. Ho fatto la supponizione. Quindi ci sono dei precedenti brutti per il Cosenza. Cosa andai? Pallo tuo? Ma se diciamo, probabilmente... Eh sì, pallo tuo! Dio che roba. Giochetto di Del Prato e bomba! E' finita per il Cosenza. Dopo 12 minuti. Secondo me è già finita. Un triangolo troppo veloce. Cosenza non rischia veramente una battosta. Impossibile. Serie B comunque, eh? Eh lo so, è difficile, però... Qua sono anche a mezzo il personale. Eh lo so! Sì, sono completamente grave. Quando una squadra è inferiore, è inferiore, eh ragazzi. Lo so, anch'io ho ottenuto il Palma contro l'Inter. Ne so qualcosa. Oh, dovete avere una dignità! Vedo che ho giocato a tutti i fatti, il sombrero. Bella, bella ragazzi, si gioca in scioltezza. Ragazzi, non c'è neanche il Presse nel Cosenza. Ormai sono rimasti male. Sono rimasti... Bravi a chiudere all'ultimo! Dobbiamo fare il 3 e chiudere la partita ragazzi. Poi dopo possiamo mettere i remi in barca. Cosa ne dite? Sì, mister! Mi rispondono. Ho giocato di fare un altro gol, ma non ci sono riuscito per fortuna. Ottimo! Fai la tecnica! Ottima! Ma io, ma... Cosa ci stava venendo? Bravo! Ma che cosa ho cercato? Cosa c'è anche a noi questi ragazzi? Calma, eh! Attenti! Voglio ripularmi! Va bene. Cosa fai? Ti addormenti? Capisci. È bellissimo quell'angelo qua! Finita qua! Guarda, cosa stai? Guarda, tutto! Cos'è sbaglio? Guarda, tutto! Troppo champagne qua! Troppo champagne! Potevo farla rivedere ai ragazzi però qua. Effettivamente. Se non è che meritava nel Parma. Ho dovuto fare il golasso e... È andata così. Dai, che ho troppi le qua. Ancora. Ho deciso di farne un altro. Di prima! Qua cosa è? Ho fatto che non ho fatto niente! Ho visto che sono innocentissimo sono! Incredibile! Così, così cosa si pensava fosse il rigore. È tanto più innocente. Scusa! Scusa! Scusa, ho detto! Ragazzi, l'unico modo è farsi spegnere tutti per riuscire a perdere questa partita. Quindi cerchiamo di stare calmi e di farli qua veramente inutili. Scusa, lo metti inutili, sì, non so, lo dico come un batto. Sì, ma inutili in mente, poi. Dai, fatemi il contropiede che qua non c'è più nessuno. Dai! Roca! Ui! Attenti che fa il lancio! Tutti indietro! Cerca solo un'imbucata! Dai, la! Roca, ti alzi! Puoi fare dormite queste qua! Non volevo! È assolutamente involontario. Grazie, l'amico. Ho capito. No, non puoi sbagliare quei gol lì. Ma non puoi! Ma dai, ma giù! Cos'è? Ho capito, l'arbitro. Guarda che roba! Ammonito Granabert ha una nullezza incredibile. Dobbiamo far entrare, ragazzi, se no rischiamo, sapete? Dai, sciabolata morbido. La nasconde, alzandola leggermente. Maradona! Maradona! Perché c'è la rione? Cosa c'è dai? Cosa c'è dai? Siamo andati, tanto fa il letto mio, non c'è come. Comunque è facile il trainare con questi campioni. Andiamo, ragazzi. Dai, basta, Giochini! Mamma mia, Giochini! Va bene. Scusa, abito, scusa. Deviata! No, ragazzi, su, facciamo il train, su. Non prolunghiamo questa agonia cosentina, dai. Facciamo il train, boh. Un altro angolo. Grazie. Mi sento morti, anche se siete solo il 2-0. Avete già capito che avete perso? È un manifesto di inferiorità. No! Bella! Niente. Allora, manca che mamma, proprio un millimetro. Va bene? Vai! È bellissimo quel triangolo lì, va bene? E' bello questo tiro qua! È bellissimo! Peccato che non è venuto. Guardatevelo bene, va! Interceptor, triangolo, il tiro di prima. Alzandosela. È venuto, roba qui. Va bene. No, ragazzi, è in agonia, dai. Mamma mia, aiuto. Guarda me la fallo, ma a carottina. Che parata! Eh, vabbè, devi sul suo paladero parata, guarda, guarda, ammazza. Devo ammazzar, se non me la parano. Guarda parata, va! Bello! Che gosinocchie per terra. Bello! È proprio figo! vuole prolungare l'agonia e il cosenzo il cosenzo palanetta palanetta mamma mia va bene babi che bello che veniva dai dai facciamo un gol facciamo un mutuo lì allo stadio facciamo un mutuo lì no qualcosa dico non ho poco beh ma senza commento delle cose così non vedo troppi due minuti no ragazzi tranquilli possiamo giocare con il suo flash noi vogliamo questa vittoria scusa abito si è sentito l'urlo ma è mosso per la terra sotto la doccia in dieci il panno sotto la doccia ma lei me l'ha fatto da solo vorrei lavarti il culo ma non volevo farlo ma l'ha fatto da solo per un piccolo pestone mi sbatte fuori dieci scandalo ragazzi o rovinati o ci vuole rovin le discipline l'ho visto l'ho visto bene ci vuole la tecnica anche ma dove vai ouch ouch ragazzi nessuno sa so niente noi possiamo vincere anche i dieci lo sapete ma cosa fai? mandala dietro no? il culione eh si la protegge il Mudo Vasquez dai muovi di che non c'è niente adesso aspettato che ci posso dai su dai su chiudi bene qualche volta rimpiengerete quel quasi gol come te esce l'uscita di Buffon mamma di Udo coraggio onore ragazzi dai spingi è ottimo questa propria ho visto ma in cielo è una bella rasoiata Mudo devi fare la golda lì Rudo venire giù lo staglio dai eh abbiamo fatto più noi noi sono in possesso due gol un palo un uomo in pieno per il Parma e ora va al secondo tempo il Parma deve chiudere con un 3-0 in modo da chiudere la partita del pacchetto è vero? non si finiscono sicuro adesso si che? vengo a fare certo obbligatorio obbligatorio non ve lo faccio un po' ma noi copriamo bene bene abbiamo la tecnica eh rigore niente? no com'è un po' come non ci vede cerca i numeri terribili mi mancava di usare uno e poi facevo gol e ora non ce l'ho fatto ragazzi non è schifo eccolo ma è schifo gol vabbè dove che l'avevo riperto dai ma vabbè ragazzi mi fanno anche buttare mi svegliate non c'era di su che c'entrava che roba che roba lì uscire bufano dormi sento quella colpa bufano si infatti questo qua ce la faccio scendere dai adesso c'è tutto un secondo tempo per prenderne l'acqua mamma mia che riusc che riusc che riusc chi sei il cosenza o Real Madrid ma da questo qua e non vuoi anche vedere queste tue pradezze no peccato ma dai ma cosa fai qui mi fai che lavoro ahhh lo giochiamo bene adesso mi fai fuori per fare questa palla lo giochiamo bene adesso ma arrivo lo Dario ma arrivo lo Dario ma io sono scivolato tra l'ora prima ma tra l'ora prima sono scivolato guarda quanto tempo scivolò prima sono già scivolato dai da ti sei tuffato sopra è un tuffo sopra il mio fallo ma cosa fai ti sbatto in tribù e ti sbatto ma sei bravo Bernabè dai adesso qua si chiude però eh una fallo da chiudi adesso anche tu via bello lo Spitz stupendo anzi cerca vai che te ne vai andiamo su questa fescetta mettiamo un bel pallone in mezzo ce la facciamo no ce la facciamo ahhh il culo esiste ottimo rigore lo voglio ma cosa fischi bravi non fischi mica ma cosa fai ma cosa quell'iscio lì bravo ma quello è una sfiga incredibile ma che roba è ma vai a marcare ti sbaglia ti sbaglia paga una palla una palla una palla un casino è successo talmente che poi doveva finire una palla perché no bravi comunque ah bravi anche fuori fuori oltre all'ostacolo invece lo devo mettere anche sono in me un fuori bravo bravo sei bello bello il fila comunque complimenti veramente una merda che schifo uccello bravissimo meritavi vabbè fallo bel tacco bravo prendila lì quella palla di me dai che andiamo dai bravo meriti ho detto che meriti bravo così che va bene dai tu hai visto? eh si è fatta come hai fatto? bravi come hai fatto? bravi ah ma come si fa a sbagliare quel gol lì? no allora devo proprio perdere devo pizza no dove sei? proprio non c'è nessuno tranquillo ragiona per se stesso anche perché? va bene va bene è che la perde? si va bene te la vai chiudere? non chiude no dopo culo dopo culo no poi demi poi demi no dai dai per controllo va vai va bene dai ce la faremo fa sto cacchio di gol che manca l'appello bello adesso è il momento giusto per quel culo qua viene ta' il gol eh sanzioni va bene va bene adesso va tutto anche lui rossino eh però ogni tanto ah giallino bene rigone si schifo mi sgroppa camara si prova l'oretti? no si prova ma cos'è a nulla? ma cos'è a nulla? bravissimo angolo bravissimo siamo ancora qua a cercare il terzo gol e ci manca da un po' e giro chi sa? arrivo lì ma che cazzo sei? dai dai si fa rete il vigorito no 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 ma abbiamo piacere dai ci sarà stato al centro della porta ma non ci frega vigorito zarafi 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 ma sarà zaraf zaraf si io ci sono vincate zaraf ah no! voglio provarci ancora con l'azzalo ma che roba è ma che roba è terribile è terribile quando mi rimane beccato non ci credo che l'ho salvata ho spettato perché voi non volete fare attrazione e così avete sbagliato è pazzesco anche bellissimo ma dai si tuffa si è tuffato letteralmente è già fuori il triangolare dai buttala dentro quella palla lì va bene va bene quei coglioni no eh bravo cosa c'è che schifo mamma mia abbiamo fatto una carezza scappa gli avevo pulito dalla polvere ah via scusa dai fai i grossi punizioni fai i grossi punizioni 12-16 non mi ha neanche munito perché ha capito che era una falsità e doveva beccare la punizione qua ragazzi paratela perché è veramente schifo paratela mamma mia meno male che ho parata perché era uno scandalo perché la gol qua era uno scandalo veramente guardate le punizioni qua sono pericolosissime e per una inizia perché un gol rubato via anticipa via ho detto via non farsi anticipare coglione che roba è lì tranquillo dorme lo so è la cattrofie era Vasquez vabbè c'era Vasquez vabbè cosa ci fai Vasquez viva lì dai immontabile lo vedi oh rubagli una volta ogni tanto la fai rubare una volta no fa il taglio bravo vabbè non giocare troppo col fuoco bravo 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 bravi stupendo stupendo ha meritato il gol con gommiglio controllo in aria e guarda che sfiga che c'ha avuto la ragazza lì e guarda che sfiga c'hai guardalo ti raggi una lecca dai invoglia la viola e inshallah e bocca lo butta per te è brutissimo tartasciato alza il cartellino giallo solo perché non vado così certo sbraga la maglia che roba trattenutissimo lo strappa mi osorio so se lo strattene bella anticipo stavolta però ah che bella che bella che contropiede passesco passesco è passesco poi passesco è nata bellissima se ne va lo tiene dietro questo mondo è merdina guarda che sfiga eh ancora basta eh dobbiamo fare la nostra silencina voi fate tranquillo accomodati prego ma cos'è sto sfiga siamo riusciti neanche a segnare incredibile no distruggilo a pezzi ma cos'è quella roba lì bravo bravo che bravo che sei stato stavolta ma vabbè hai fatto il possibile ah è mia buon amato come vado non si sa incredibile quellissimo lo tiene dietro intelligente l'azienda al suo compagnino primi di secco maradona niente bene ottimo dai cattolo c'è come un quarto d'ora guardiamo una lecca terribile incredibile è incredibile che non siamo tra uno nonostante che siamo in dieci tranquilli poff giochiamo dai giochiamola fermo bello come abbiamo sta palla la facciamo no quel culo qui no è finita c'è non è possibile non è possibile 2-2 non è possibile oh ma tutti hanno visto tutti hanno visto come è una tradazione tutti ma non è possibile viene punita la tua gogliardia dopo dieci minuti ma che culo è ma che culo è ma che roba viene punita guarda che rimpagno di merda che fai finché poi torna incredibile ma che roba chiuso quasi chiuso viene punita la tua gogliardia gogliardia finché prendo un gol ragazzi veramente c'è un cambio del parma che bravi a crederci no è già posto così ma altra rimonta no però attenzione il parma mette basket centrale buon via parta ora ultimo salto del parma che è inferoscito nonostante che in dieci deve cercare di vincere massimo impegno ragazzi e massima resa ragionare bravi meritate il gol rigore rigore con l'orbito fischio però secondo me ci poterà bravi ottimo non è valdo però non è incredibile ragazzi fai schifo fate sì lo so siete in uno in meno lo so tutte le scuse sono buone però siete anche il parma va bene e quindi non toglierò queste cose non le toglierò no non le toglierò ho detto non le toglierò bravissimo bravissimo bene sembra che sposo beh allora non so sarà qualcun altro e poi che schifo deve segnare sul pallo questo qua dai ma riparti o non ce la facciamo più bravo te a nulla bravissimo eeeh che devo fare ancora che ti devo fare andiamo avanti ragazzi freghiamoci è uno schifo è uno schifo tutti hanno visto come ha fatto la trazione è una cosa normale è una cosa assolutamente normale un massacro veramente un massacro normale MUTO che roba MUTO basta che stai scritto niente ti potremmo scrivere a LORETI maradona LORETI ci potremmo scrivere boh ragazzi RETI schema del fama niente ancora schema del fama niente non viene mica lo schema oh scusa cos'è no ma cos'è quella roba con nessuno ma cosa fai cosa fai ma cosa stavo a fattendo c'è un bufoglio poi dici che lo devo tirarlo giù ma ti ricordi cosa stavo facendo lo stavo lasciando andare magari è un po' incredibile incredibile parma parma vedi come mi incitano dai dai ragazzi dai è mia ila è mia ila dai che li pressiamo dai che la perde la può perdere ma fai che cunca la perde mai dai che sei bravo te sei un gran scoppatore te sei bravissimo puntalo dalla bravo ma non è impossibile che mi viene mai uno ma ti di prima la sbatte di cruscio incredibile ma si va bene ah ci credo che va bene arrivo l'inare e tirano di merda per la forza all'ottantaduesimo me la sbatte fuori niente non va giù bravo te ma che bellaccio ma che roba bello spettacolo eh lo sapevo come fare perché non era lì per me era fuori gioco ma che schifo fai ma che schifo fai ma che schifo fai ma che non vai un cazzo ma che cazzo non va niente non va niente ma la capisce però bravo bella palla complimenti anche a te e anche a te e bella finta incredibile qua è rosso ma ragazzi ma io te mi importa ma è uno scandalo ma io te mi importa con quella giocata lì incredibile finge di darla di là e poi si gira e lo tira laggiù come una bestia cosa mi è scappato il mudino figa il mudo bravissimo mudo dai c'è il buco che va ma dai ma c'è il buco niente non c'è più ma ma questo è stato su chi bravacca puntana torna idiota torni ma dai che tira vedete vedete non è possibile ma il mio ma ma tira dopo si sa mi figlio gli odi che remontano in uno in più bastardi 2 a 0 dopo 10 minuti eravamo una squadra morta 3 gol nel secondo tempo ma che tristezza veramente 3 gol nel secondo tempo il comando del gioco ti buffano nel pari una porca incredibile ma è incredibile quello che avete fatto stupidi idioti coglioni sei troppo sicuro si ma figlio l'agonia continuiamo a dire non so che era l'agonia l'era però mi sono fatto sbattere fuori l'ennesimo giocatore mi sono fregato con le mie mani anche a quello adesso è finita adesso è finita portatoio ragazzi giocare in dieci non è permesso non si è abituato no non si può giocare in dieci ma non si può proprio sei abituato a non fare falli no non li posso anche non fare anche sono coglioni ma cos'è ma cos'è se andava dentro così era il gol di fantozi che roba che roba qui mi imborca senti che i bastardi che fanno che tristezza che tristezza di partito non parma veramente come insomma non parma vero bella giocata che schifo mi fate schifo veramente c'è ma figa ma rosso mi fate schifo eh rissa ma rosso diretto o doppio rosso diretto non so mi ha detto schifo mia lina rosso diretto dovrei ti provare l'impossibile o no la gioco dai ma figa me lo so chissi tirare immabito uno scandalo eh non c'ha niente ah gliela fischia gliela fischia il rosso io fai schifo vai ma che schifo ragazzi che cali di concentrazione mamma mia guardati vedete se vincere con le squadre inferiore eh sì beh va beh ma che cosenza fa ridere ridere che offesa fa ridere hai offeso di cosentire comunque fa ridere fa ridere a tenere sarebico sarebico comunque sarebico sarebico che fanno ma fate schifo voi siete più di gol questi qua però eh ma mi torno schifo mi sta più nemmeno di gol io li faccio la fine i fallanci bravo bravo hai capito questo è testa è ingegno sì è ingegno mi haio che viglia sta facendo il bello questo è calcio questo è calcio beh ottimo come contenere gli attacchi ci prova le orecchie disperazione disperazione ma è un bel tiro alla fine cosa fisco fisco a mio favore per farmi cercare la panetta è finita ma cosa che è finita è il recupero è finita ma con tutti i falli che hai fatto è ovvio che mi fa recuperare no è finita ti chiamo così la panetta è finita si va bene ma è finita la panetta è finita che ve sono la panetta è finita la panetta è finita la panetta è finita la panetta è finita va bene saluti a tutti allora devo andare qua a indare mia figlia ciao ciao fiamo a tutto ciao